La prima cosa strana secondo me è che il giornalismo italiano non si ricorda più come si fa il giornalismo. In generale, non soltanto quando si parla di immigrazione, si fa sempre più spesso il giornalismo stando in redazione, seduto al tavolo, davanti a un computer con il suo internet e sempre meno in mezzo alla strada, in mezzo alla realtà, incontrando la realtà e raccontando la realtà per quello che è. Questo ovviamente ha delle ripercussioni su tutti i temi, compreso il tema dell'immigrazione, però forse il problema più generale è il problema del giornalismo, che si fa con una qualità sempre più bassa secondo me. L'altro problema è il fatto che i giornalisti non rappresentano una specie illuminata della società, ma al contrario riflettono quelli che sono gli stereotipi della società. Spesso quello che accade nei giornali è una specie di autocensura, cioè il fatto che gli stessi giornalisti condividono una serie di stereotipi che poi sono gli stereotipi del pensiero dominante che c'è in giro per la società. Per cui lo straniero senza documenti è un delinquente, lo straniero di certi paesi è più propenso a fare certi reati piuttosto che altri. Se poi si aggiunge che degli stranieri si parla solo negli articoli di cronaca nera o di cronaca giudiziaria e non in altri articoli, e si somma a questo l'ignoranza media dei giornalisti italiani, l'ignoranza linguistica anche, spesso i giornalisti anche di grandi giornali parlano soltanto l'italiano, quindi magari si trovano anche in difficoltà a raccontare certe cose. Penso che in futuro le cose un po' cambieranno, anche sperando che nella nuova leva di giornalisti, appunto, nel senso che di nuovi ragazzi, magari figli di quella stessa immigrazione, che hanno sicuramente un'apertura culturale diversa, una conoscenza linguistica in più e magari ci aiuteranno a capire meglio le cose. Secondo te i giornali italiani rispecchiano quello che pensa la gente italiana sull'immigrazione? Sì e no, nel senso che in generale i giornali rispecchiano le idee dei lettori che li leggono, c'è chiaro che se uno legge un articolo sull'immigrazione sulla Padania o sul manifesto, probabilmente non è che dicono le stesse cose, e probabilmente rispecchiano le idee dei lettori e comunque della comunità, diciamo, di italiani che si riconosce in quel giornale, che compra quel giornale e che legge quei giornali lì. Quale sarebbe il giornale peggiore in questo contesto per quanto riguarda l'alimentazione? Quale giornale peggiore? Oddio, in realtà è una domanda difficile questa, nel senso che sono tanti i giornali peggiori. Non è che potrebbe fare la risposta facile, attaccare frontalmente la Lega e la Padania, ma in realtà anche quando uno legge giornali che pensano di essere giornali progressisti su questi temi, in realtà si rende conto dei problemi che ci stanno. Pensate a questioni fondamentali, che ne so, recentemente quello che è successo a Lampedusa, ad esempio, il fatto che 1.300 ragazzi tunisini da settimane erano detenuti in modo completamente illegale, in Italia la Costituzione dice che la libertà personale è inviolabile, che entro 48 ore un giudice deve convalidare lo stato d'arresto, pure a Lampedusa da settimane c'era gente arrestata senza nessuna convalida, in modo illegale, nessuno su nessun giornale ha denunciato questa cosa. E quando la polizia lo scorso 21 aprile ha massacrato di botte i tunisini a Lampedusa, nessuno ha più di tanto parlato di questa cosa qua, anzi, le stesse redazioni che fosse appunto il Tg3 o il Tg4 cercavano le immagini del tunisino che minacciava di far esplodere la bombola, ma non facevano vedere le altre immagini, il CT in Pacifico che c'era stato il giorno prima, piuttosto che della carica violentissima che c'è stata, dei feriti con le gambe rotte che hanno riportato via sugli aerei per espellere. E questo si fa per autocensura, non si fa perché c'è qualcuno che ti dice questo non lo devi far vedere. Si fa perché i giornalisti, anziché stare sul terreno, stanno nelle redazioni, lavorano appunto con l'agenzia stampa, lavorano con le immagini che arrivano dalla questura, ormai sempre più spesso le stesse forze dell'ordine hanno un addetto alla comunicazione e sempre più difficilmente c'è gente sul posto che fa il lavoro che dovrebbe essere, cioè quello di stare in mezzo alla realtà e raccontarla. C'è qualcosa in particolare che ti dà fastidio nel modo abituato di rappresentare gli stranieri della Stata? Sì, ad esempio il fatto di rappresentarli come stranieri, il fatto di rappresentarli come immigrati, secondo me sono categorie queste che non hanno senso. Il fatto di parlare, la stessa parola immigrato è una parola che non ha senso secondo me. Cioè il fatto di definire per anni, per decenni una persona solo con quella categoria lì, secondo me è indice dell'ignoranza di questo paese, secondo me servirebbero categorie nuove, servirebbero categorie nuove in cui si racconta la società per quello che è senza ogni volta andare appunto ad alimentare il mostro dell'altro, nel senso che pezzi di società, pezzi di cultura, insomma servono tanti appunto gli spunti in cui appunto dare occasione agli italiani di conoscere quelli che sono i nuovi italiani, cioè i nuovi abitanti di questo paese. Qual è la tua reazione quando vedi un articolo offensivo nei confronti degli stranieri? Beh, a parte sbuffare, purtroppo non è che mi metto a scrivere lettere ai direttori, forse bisognerebbe farlo, forse bisognerebbe fare quello che fate voi, in una specie di osservatorio, segnalarle, lasciarne traccia, forse bisognerebbe farsi sentire un po' di più su questo, una cosa che in realtà non accade mai, è difficile che i lettori si facciano sentire per questioni come queste, è difficile che si facciano sentire in generale, però in particolare su questioni come queste. Io lo che faccio io cerco di, anziché di leggere gli articoli degli altri, di scrivere i miei, quindi con il sito, con il lavoro che faccio, cerco di appunto di dare un'altra versione dei fatti, cerco di raccontare le storie, di dare meno numeri e più racconti, di riportare la realtà al centro del dibattito. E vedo che la rete queste cose le apprezza, cioè su internet c'è un tantam incredibile che appunto fa capire anche che la gente non è questo quello che vuole, cioè non sono gli articoli razzisti o appunto questo tipo di roba che si legge sui giornali italiani. Alcune persone dicono che non c'è molta differenza fra i giornali italiani e quelli esteri, nel modo di fare reportage su questioni di immigrazione e di diversità culturale. Mi sembra che all'estero si sta un pochino più attenti, mi sembra, su queste cose. Forse si sta più attenti in generale sul giornalismo rispetto a quello che accade in Italia. Quando ci fu quel caso, adesso mi sfugge il nome, quel signore tunisino che venne sbattuto la foto in prima pagina, dicendo che era il mostro che aveva ucciso la moglie, il bambino, e poi si scoprì invece che erano stati vicini di casa, che lui in quei giorni stava addirittura in Tunisia. Cioè c'è una facilità qua, a sbattere il mostro in prima pagina, che fa un po' il problema del giornalismo italiano. Cioè il giornalismo italiano soffre di specie di effetto verità, nel senso che delle fesserie a forza di ripeterle diventano vere e si presume che siano vere e quindi si cerca di dimostrarle, attraverso la stampa. Esempio, se, che ne so, come avvenne nel febbraio del 2009, senza che far l'altro che il paese si indignasse, nel febbraio del 2009 il Consiglio dei Ministri approvò un decreto, legge, istituendo una sorta di... il famoso decreto antistupri si chiamava, cioè come se nel paese ci fosse un'emergenza antistupri, e fu una delle prime iniziative che prese la lega al governo. E a parte che nessuno si indignò del fatto che un governo appunto affrontasse questo tema, che se ci fosse appunto un'emergenza stupri in Italia, che poi significava un'emergenza stupratore di stranieri, sottointeso, vi mandare dei messaggi ovviamente all'elettorato, populisti. Bene, in quello stesso frangente la stampa, anziché criticare questa cosa e raccontare qual era la realtà, andava a cercare in quei giorni le notizie di stupri commessi ad opera di stranieri, che sono cose che ci stanno ovviamente, perché fa parte della statistica, come pure fa parte della statistica che tra gli stupri commessi dagli stranieri la maggior parte sono commessi dai rumeni, perché statisticamente i rumeni sono la comunità più numerosa, quindi sono proprio leggi della matematica, per cui se il rapporto rispetto alle comunità di chi commette roba simile è più o meno stabile, è chiaro che più la comunità è grande e più casi ci saranno, però quello che voglio dire è che l'effetto verità, cioè il governo dice una fesseria e la stampa, anziché criticarla, va a cercare delle notizie che corrispondono a quella fesseria, è un meccanismo perverso, all'incontrario, anziché essere la realtà che mette in crisi la politica, è la politica che mette in crisi la realtà, cioè se la politica crea un'emergenza e la stampa, in modo proprio così succube, supino, va a cercare delle pseudonotizie che confermino quella verità. Alcune persone quando vedono il nostro sito dicono che è solo una questione di tempo, che tutte queste miscomprensioni nei giornali, tutte queste diffidenze fra italiani e immigrati si metteranno a posto man mano che i figli degli immigrati si inseriscono nella società e la gente si abitua ad un'Italia interculturale, sei d'accordo? In parte sì, in parte no, in parte questo succederà, è chiaro e evidente che succederà, nel senso che nell'Italia di domani, voglio dire, il colore della pelle non sarà associato soltanto come magari avviene oggi, comunque a uno stato di precarietà, di povertà o che so io, ma dove avremo appunto come in Francia, come in Germania, come in Inghilterra, dove avremo gli stessi giornalisti, piuttosto che medici, piuttosto che avvocati, ogni settore della società sarà molto più misto e mescolato di quello che non è oggi, sicuramente le cose cambieranno in qualche modo, fa parte probabilmente della normalità del panorama di questa società, nessuno più ti chiederà la domandina che si fa oggi, di dove sei, ma intendo di origine, di dove sei, in Inghilterra nessuno ti chiede queste cose, come nemmeno in America, allo stesso tempo però se guardiamo l'America, se guardiamo l'Inghilterra, se guardiamo la Francia, vediamo che ancora in quei paesi ci sono presenze, insomma, di fenomeni razzisti, di movimenti razzisti, di movimenti nazionalisti, purtroppo fa parte anche della natura umana, ci sarà sempre qualcuno che rivendica, in nome di un discorso razziale, un diritto di predominio su una terra, lì allora serve un lavoro culturale, perché non è automatico, serve un lavoro culturale appunto che riscriva una serie di concetti, come quello di cittadinanza, come quello di ugualianza, nel senso che non ha senso secondo me nel 2011 ancora ragionare in termini di stati in azione, o di nazioni proprio come di una comunità di un popolo figli di, non ha senso più parlare di diritti di sangue, siamo in un mondo globale, in un mondo piccolo piccolo, dove la gente si sposta, dove la gente viaggia, dove la gente assume cittadinanza in base alla città dove sceglie di vivere, però questa roba è una cosa che si produce in modo culturale, non è che vi arriverà secondo me da sola. Avresti qualche suggerimento, qualche consiglio da dare al nostro sito? Beh no, è già il lavoro che fate, mi sembra interessantissimo di monitorare, forse sarebbe interessante far arrivare un feedback anche ai giornali, nel senso tenerli di mira e farli avere anche a loro volta per volta, nel senso che il fatto stesso che ci sia una reazione, anche se è piccolo, ma il fatto che ci sia una reazione volta in volta secondo me è significativo, cioè il fatto è che comunque i lettori si facciano sentire, prima che qualcuno appunto negli uffici commerciali dei giornali dica no, quel pubblico questo è quello che vuole sentire, la verità è che il pubblico non si fa mai sentire, consuma spesso in modo un po' così passivo, quello che gli viene fornito, almeno su certi media, su internet è diverso, infatti il futuro sta anche su internet, dove uno si va a scegliere la roba che vuole. Ti ringraziamo, seguirei molto consiglio, grazie per il tempo che ci hai dato.